2 milioni di euro da reinvestire su personale e un tavolo per la garanzia della copertura del personale nel periodo estivo. Questi rimpegni assunti dall'assessore regionale alla sanità Silvio Palucci in un recente incontro con la segreteria FPCGL della provincia dell'Aquila. La carenza di personale resta la patologia cronica degli ospedali della provincia, ma soprattutto di quello di Sulmona, da qui la richiesta dell'organizzazione sindacale di investire più risorse per i singoli presidi ospedalieri. Da parte dell'assessore Palucci è stato assunto l'impegno a recuperare circa 2 milioni da reinvestire su personale, il che tuttavia, se rapportato ai 5,3 milioni di sforamento che la FPCGL è segnalato da Messi, permettono di fatto soltanto di diminuire lo sforamento stesso a circa 3,3 milioni, tant'è che resterebbe in capo all'ASL, l'onere di recuperare ulteriori risorse che possano permettere di mantenere quantomeno l'attuale forza lavoro, già di per sé insufficiente, fanno sapere da sindacato. La FPCGL propone di attivare immediatamente le procedure per riferire i finanziamenti, come già fatto da altre regioni, in modo tale da liberare da subito nuove risorse da reinvestire e impiegare nel riferimento e nella stabilizzazione del personale. Inoltre, sarà avanzata la richiesta d'incontro alla direzione dell'ASL, al fine di attivare immediatamente un tavolo per il monitoraggio e la gestione delle criticità che potranno emergere in questo delicato periodo.